Ciao! Sono Maiello, macchine 50 senza patente e smart. Oh signori telespettatori, come voi avete capito, ci troviamo nelle mie sede di Maiello, sito in Viala della Libertà 200 e Via del Campo 21, dove ci sono pure i ricambi, assistenza e diagnosi, ok? Ma voi osservate bene quest'altro oggettino, denominato l'IGR GS50, motore Progress, ok? Guardate un po' i cerchi, vedete, cerchi diamantati. Signori telespettatori, guardate un po' dentro, con il tabletta 7 pollici, fotocamere posteriori, va bene? Sensore di parcheggio, su cruscotto praticamente porta un'amplificazione, tutta amplificata, ok? Chiusura centralizzata, vetro elettrici, è un fenomeno questa macchina, va bene? Pronta consegna, questa per farvi intendere a voi l'hanno presentata, eh? Il 4 agosto al Salone di Parigi, adesso è disponibile per voi, pronta consegna. Come Maiello vi dice sempre, voi che abitate fuori distretto potete venire pure il sabato, Maiello è aperto tutti i giorni, ma voi potete venire il sabato pomeriggio, la domenica mattina, chiamando sempre 890, 49, 25, prefissato dallo 081, oppure voi fate il sito di Maiello, lì trovate tutto l'email, trovate tutto, 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 tutto. Maiello vi aspetta, va bene? Maiello è sempre il viale della libertà numero 200, o via del campo, 21 ad Averso, ma voi chiamate Maiello, ok? C'è una vasta gamma di usato, per tanto, visionate il sito. Maiello, come voi sapete, vi accontente, pure perché ha fatto qualche brano su questa macchina, perché è bella, bella, con i tablet, bello. Ma vi devo dire la verità, io sono pazzo, vi devo dire pure il prezzo, però non vi emozionate, indovinate un poco, fermi, eh? 11.500 euro, ragazzi, non scherzate proprio, però vi dovete prendere sempre quando sono pazzo, ok? Specialmente il sabato pomeriggio e la domenica mattina, ok? E Maiello, anzi, vi regala pure il trasporto, sempre per chi è fuori distretto, Maiello con il suo caratterezzo ve la consegna fino a casa, ok? Non cambiate il canale, andate sempre sul sito, Maiello vi saluta e vi regala il brano proprio sulla Ligiello, ok? Vedete Maiello? Ok, vai, Ligiello! Grazie a tutti! Quanta smart, ecco l'ora puoi girare, si può stare sempre a giornata, coppa a moto, le cinquanta, tua maielli a chiamare, Tu cura a cagliarla, questa cinquanta ca, maiello ti può fare, finanziamento con la firma di mamma, viene a casa a stare usata, garantito, garantito. Su la mente e qualità, trovo pure l'officina ca, con tanta qualità, garantito e qualità, garantito e qualità, garantito e qualità, garantito e qualità. Grazie a tutti! Questa macchina cinquanta, la garanzia trova sulla ca, maiello ti può fare, finanziamento con la firma di mamma, viene a casa a stare usata, quanta smart, quanta smart, ecco l'ora puoi girare, si può stare sempre a giornata, coppa a moto, le cinquanta, tua maielli a chiamare, Tu cura a cagliarla, questa cinquanta ca, maiello ti può fare, finanziamento con la firma di mamma, viene a casa a stare usata, garantito, garantito. Su la mente e qualità, trovo pure l'officina ca, con tanta qualità, garantito e qualità, garantito e qualità. Grazie a tutti! Viene a casa a stare usata, garantito, garantito, su la mente e qualità, trovo pure l'officina ca, con tanta qualità, garantito e qualità, garantito e qualità. Vi sentito,ендore a casa a trovare, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.